Entro subito in una specifica, non farò un trattato sul discernimento. Parlare di scelte è un tema molto ampio, ne entrerò nello specifico delle scelte che dovete prendere, ma mi lascerò, mi sono lasciato un pochettino ispirare da un brano evangelico e proviamo a partire dal Vangelo di Marco a trarre qualche indicazione che possa essere utile per la nostra vita. Il brano molto noto che abbiamo ascoltato è quello del ricco, perché non è giovane, nel Vangelo di Marco, però avete detto bene, era giusto un po' per svegliarvi, perché il Vangelo di Matteo invece nel brano parallelo parla di un giovane, Marco no, però nota che è un uomo ricco. È un uomo ricco che fa una scenata clamorosa, fa una piazzata, c'è Gesù che va lungo la strada, lui arriva di corsa e si getta i piedi di Gesù, una cosa clamorosa. Immaginatevi se adesso si spalancassero a forza le porte, entrasse uno trafelato di corsa, si buttasse qui a terra e gridasse che cosa devo fare per trovare le poste, non lo so, una roba del genere. Sicuramente è una persona che attrae l'attenzione. Ma perché questo brano? Anzitutto c'è un dettaglio che a me piace, inizia dicendo che Gesù andava per la strada e un tale gli corse incontro. Allora è un brano molto movimentato, non è statico, non sono due statue che si fissano, c'è Gesù che cammina lungo la strada, questo Gesù che è sempre in movimento. Quando ti sembra di averlo trovato, giusto me lo dite voi, è tre passi avanti, non lo capisci più. Dov'è finito? Dio ti voglio tanto bene e il giorno dopo, boh, dove sei? Non ti capisco più. È un signore che ci chiama a seguirlo. Il Vangelo è per chi vuole consumare le scarpe, non è per quelli che vogliono stare sul divano per possedere una teoria. Gesù scappa, direbbero da qualche parte, che sguilla. La capite questa? Sguilla. Sono i vocaboli che ho imparato in vent'anni di Umbria. Sentite che il mio accento è molto umbro. Ormai non si confonde più, più o meno. Gesù va per la strada. Diceva il sussidio che fa da introduzione a questi incontri che il Vangelo di Marco è il racconto di un viaggio. Leggerlo significa lasciarsi coinvolgere personalmente in questo viaggio. Il primo viaggiatore del Vangelo è Gesù. È un Gesù in movimento, capiscilo questo. Perché non è un Gesù che puoi capire o comprendere. Tante nostre sofferenze vengono perché noi cerchiamo di capire Dio, di comprenderlo, di fermarlo, di fissarlo. Vogliamo la ricetta. Labracadabra, così succede la magia. Come sfregare la lampada, così mi fa il miracolo. Sono buono, ottengo le grazie. Gesù lì dentro non ci sta. E ci invita a essere camminatori, gente che lo segue, gente che è disposta a errare, a viaggiare, a camminare, a spostarsi, a cambiare punti di vista, a perdere gli appoggi, a ritrovare nuovi equilibri. Oh, la vita è questa. Ha la forma della vita il Vangelo, perché la vita non è statica. Ciò che è fermo è inanimato, i sassi sono fermi. Ciò che è vivo si muove e Gesù è la vita. E chi vuole la vita deve essere disposto a muoversi, a non rimanere fermo. Quante volte anche le nostre pastorali sono ferme, si ripete a oltranza quello che è sempre stato fatto. E lo vedremo. Mentre Gesù è uno che cammina. E c'è questo tale, questo ricco, che si getta in ginocchio davanti a lui e gli fa la grande domanda. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Il discernimento, le scelte, che cosa devo fare? Questa domanda la senti familiare? Non bastano i soldi a fine mese, ti servono due cose, un frigorifero e un cane per lo zio. Cosa compri? No, non era una domanda, non devi rispondere. Può essere utile anche il cane, se lo zio è cieco, magari ha bisogno di un pastore tedesco e forse è meglio del frigorifero, non lo so. Quante volte il discernimento? Devo scegliere l'università, finisco le superiori, cosa faccio? È facile, no? Sapete tutti cosa dovete fare da grandi nella vita. Oppure dentro un rapporto di fidanzamento, d'amicizia, succede un problema, come lo risolvo? Una crisi nel matrimonio, che scelgo? Mi propongono due lavori, uno che mi porta lontano da casa con più soldi, l'altro più noioso, più vicino alla famiglia. Che scelgo? Che cosa devo fare? Quante volte? Che cosa devo fare? Questo giovane, lo chiamo così, mettendo assieme il Vangelo di Matteo, è un uomo che ha bisogno di discernimento. Allora questo non è un trattato sul discernimento, ma di discernimento vorrei parlare. Sapete che cosa vuol dire la parola discernimento? È bellissima. Dis è un composto, vuol dire separare, cernere vuol dire scegliere, cioè l'arte dello scegliere separando. Bellissimo. È l'arte dello scegliere dividendo, separando, perdendo qualcosa. Ah, non si può tenere tutto assieme. No, capre cavoli, no. Il discernimento evangelico è preferire qualcosa, scegliere, tagliare, dividere, rinunciare, perdere per trovare. Che cosa chiede questo tale? Chiede la vita eterna. Ora, capitemi, la vita eterna non è soltanto il paradiso che verrà. Eterna in italiano vuol dire che cosa? Che non ha e non ha inizio. Una cosa eterna non ha neanche inizio. Quindi la vita eterna dove comincia? Quando? È già cominciata. Allora, il problema di questo tale è che non ha la vita in pienezza, né ora né dopo. Quindi è una persona che ha un punto di domanda sul senso della vita, sulla felicità. Allora ti interessa. È un tale che non è pienamente felice. È uno che ha un problema con la vita, non se la gode fino in fondo. Ha un'inquietudine. Ciò che ha non gli basta. Ha un problema con la vita. La vita gli sta stretta. La vita non è come lui la desidera. Ci stiamo tutti più o meno. È un inquieto. Beati gli inquieti, direbbe Gesù. Questo è un tale che ha fame, che ha un desiderio, una mancanza. Allora il discernimento lo fa chi ha fame, chi ha sete, non chi ha la pancia piena. Le scelte nella vita devono avere una meta, un perché. Questo tale chiede la vita, la vita eterna. Tante nostre scelte, la prima domanda che dobbiamo farci è sono per la vita o per la morte. Tante scelte che noi pensiamo di fare sono per la vita o sono per la morte? Sono per qualcosa che ci fa veramente bene oppure no? Questo tale evidentemente cerca la vita e trova un Gesù, perché noi parliamo di un discernimento fatto al cospetto di Dio, che non è proprio accomodante. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Noi ci aspettiamo un Gesù che dica beh che bella domanda che mi fai, non vedevo l'ora, adesso ti rispondo per bene. La risposta di Gesù è perché mi chiami buono? Maestro buono che cosa devo fare per avere la vita eterna? Perché mi chiami buono? Mare Emma. È sempre un Gesù che pare aver mangiato male, no? Che è un po' di traverso, complica sempre le cose, ti ho chiesto come si fa e tu mi dici ma non capisco perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Che cosa vuol dire questa domanda? Come lo ha chiamato questo giovane? Questo è molto importante, sapete in realtà. Lo ha chiamato maestro. Questo tale cerca Dio o cerca soluzioni? Evidentemente cerca soluzioni, attenti, perché il discernimento spirituale non si fa a partire dai bisogni. Questo cerca la ricetta. Chi è un maestro? Uno che mi insegna qualcosa? Tu devi voler bene al tuo maestro. No, basta che sia un bravo maestro. Al tuo professore di algebra o di geometria o di medicina non è detto che devi volergli bene, giusto? Basta che sia un bravo professore, che l'esame sia facile, che ti dia le dispense, che non sia noioso. Oppure se è noioso che abbassi il volume e che tu studi altro mentre lui parla, giusto? Ci sono i bravi professori. Questo giovane va in cerca di ricette e Gesù non ci sta perché gli deve passare un'altra cosa. Perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. E poi gli fa la domanda, la provocazione. Tu conosci i comandamenti? Se la dicesse a voi, voi avete una domanda sulla vita, voi dovete capire cosa scegliere e come scegliere per avere una vita bella. E Gesù ti dice, senti ma, aspetta, ma tu gli conosci i comandamenti? Voi rispondete, magari te ne dimentichi uno adesso per l'emozione, ma fino a nove ci arrivi, giusto? Metti anche dieci. Gesù gli elenca, senti un po', non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora il padre e la madre, e sa zitta. A quanti siamo arrivati? Ipotesi A. Gesù si è dimenticato quattro comandamenti. Non è un buon rabbi. Oppure Gesù sta attendendo una sorta di trabocchetto. Perché? Quali comandamenti trascura? Questo è importante. I primi tre, oltre all'ultimo, i primi tre sono quelli più importanti perché riguardano il rapporto con Dio. Cioè ha capito che questo vuole fare i conti senza l'oste, questo vuole la ricetta, tu vuoi soluzioni, tu vuoi risposte. Dio ti dà se stesso. Per il discernimento occorre stare in relazione con Dio. Signore aiutami a capire, aiutami a passare l'esame. Bella domanda. Io vengo da Padova, sapete noi abbiamo Sant'Antonio, verso febbraio e giugno si accende di luce la basilica, perché gli studenti mettono il cero. Ma gli studenti anarchici, anticlericali, però sai il cero a Sant'Antonio, male non fa. Questo vuole fare discernimento senza Dio. E Gesù gli dice, guarda i comandamenti sono questi, ma gliene trascura tre. La risposta del tale è piuttosto spiazzante. Maestro, li ho osservati tutti fin dalla mia giovinezza. Questo è uno bravo. Tu come stai messo? Questo qui è uno bravo, ma non è contento. Questo è importante. Abbiamo le chiese piene di gente brava, ma arrabbiata. Abbiamo le chiese piene, le parrocchie di gente efficiente, ma non felice. Abbiamo le parrocchie piene di gente generosa, ma non contenta. i primi tre comandamenti. Allora il maestro Gesù, quando sente che questo li ha osservati fin dalla giovinezza, che cosa fa? Il Vangelo ci dice, allora Gesù, fissatolo, lo amo. Allora lo ripeterò dopo, ma il vero discernimento spirituale, le scelte cristiane, non vengono da una bella riflessione. Non vengono da una bella intelligenza. Partono da un'esperienza. L'essersi, l'essersi sentiti, guardati con amore da Gesù. Tu l'hai fatto l'incontro con questo sguardo. Ti sei sentito guardato con amore da Gesù Cristo? Perché il carburante del discernimento è l'amore. Purtroppo, tante volte, noi facciamo i piani pastorali mettendo il carro davanti ai buoi. Dobbiamo fare. Il verbo preferito dei piani pastorali è bisogna. Bisognerebbe chiedersi, e chi me lo fa fare? Perché? Il carburante della fede è la gratitudine. Io non ho niente da dare a Dio di cui lui abbia bisogno. È lui che dona a me. Prima di tutto, in un buon piano pastorale, bisogna andare, come faremo in questa diocesi, ad annunciare l'amore di Dio alle persone che non lo conoscono. Gesù, fissatolo, l'uomo è un classico, giovane, ricco, che ha tutto, apparentemente, di buona famiglia, perché ha i genitori che lo hanno educato persino alla fede. È uno che si impegna di carattere buono, ma non è felice. Perché? Perché non si sente amato. Ecco la vita eterna. Che cosa devo fare la vita eterna? Maestro, io non mi sento amato. La mia vita non ha abbastanza amore. Che cosa devo fare? E capiamo che il fine del discernimento delle nostre scelte deve esserci chiaro. Perché le vostre scelte? Qual è la meta? Qual è il fine? Perché se ti sbagli falsifica, falsa il discernimento. Ci torno. Fissatolo lo amò e gli disse una cosa sola ti manca. Vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo e vieni, seguimi. Paradossale Gesù. Gli dice che per trovare la vita deve perdere. Per trovare devi perdere. Per scoprire devi lasciare. C'è un paradosso. Gli avari non possederanno il regno dei cieli. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. È un bel Vangelo per le scelte questo, no? Finisce male. È l'esempio evangelico di una scelta sbagliata. Ma ci dà un criterio importante. Da cosa le riconosci le scelte che fai nella vita? Questo è per i geni, è per coloro che fanno il dottorato in ingegneria aerospaziale. Da cosa conosci che le tue scelte sono buone? Dalla gioia. Tante scelte che tu fai sono corrette, ma ti lasciano triste. Il criterio evangelico per le scelte è la gioia. Banale. La gioia, quella profonda, non quella che dura mezz'ora. Hai passato l'esame col 30 elode, per un giorno sei a palla, mattino dopo riprendi a studiare per l'altro esame e devi risettare tutto. Quella gioia te la possono rubare presto, basta un 17 all'esame dopo. La gioia è qualcosa che dura. Ecco il criterio evangelico per le scelte. Cercare ciò che rende veramente felici. E Gesù qua sembra porre un discrimine. Non è il molto possedere che rende felici. Occorre perdere. Perdere per trovare qualcosa di meglio. Ecco un criterio del discernimento. E ci arriviamo allora. Quali sono un po' in elenco adesso in sintesi? I criteri del discernimento che questo brano ci regala. Primo, il vero discernimento, che è l'arte di scegliere, no? Quello spirituale si fa solo con Dio. Il libro dei Proverbi, al capitolo 9, versetto 10, dice principio della sapienza è il timore del Signore. Secondo, se io non pongo Dio a criterio delle mie scelte, farò le scelte seguendo quelli che San Paolo chiama i desideri della carne. Che cosa sono i desideri della carne? Assomigliano di più ai bisogni. Sono i bisogni dell'uomo naturale. Le scelte nostre a volte sono spinte da che cosa? Dai bisogni, dagli appetiti, dalla paura. Per paura di morire, prendo le medicine in anticipo. Si chiama ipocondria. Quante volte le nostre scelte sono mosse da questo, dall'egoismo, dalla paura di rimanere senza? Quanti accumuli che non servono a niente? Quante paia di scarpe che non usi hai a casa? Cosa c'è sotto? Una paura di non avere abbastanza, di non apparire abbastanza, di non essere abbastanza. C'è qualcosa che dobbiamo lasciare. Il vero discernimento si fa in viaggio e per viaggiare si deve star leggeri. Va lontano chi è leggero. L'avaro non fa molti chilometri. Terzo, quindi occorre per il discernimento, e questo è importante, una onesta, reale e sincera disponibilità a perdere. Che cosa? Il tuo punto di vista, i tuoi attaccamenti, persino i doni belli che Dio ti ha fatto. Ti ricordi un tale che si chiamava Isacco, figlio di un tale chiamato Abramo? A un certo punto Dio, per mandarlo avanti nella promessa, gli dice di restituirgli il figlio, un figlio che aveva atteso per 25 anni. Per scegliere occorre una sincera disponibilità, anche se necessario, a perdere. Lo stile sinodale si fa a partire dalla disponibilità a fare spazio al pensiero dell'altro. Non è una discussione per mediare due pareri diversi. Lo spirito cerca spazi vuoti, altrimenti farai discernimento secondo le tue ragioni, per quanto intelligenti ti possano apparire, e sarà una gara per imporle o una falsa modestia per promuovere l'altro. Occorre quindi libertà interiore, anche rispetto al proprio interesse personale, e apertura alla novità di Dio. Si è sempre fatto così è un antidiscernimento, perché Dio fa nuove tutte le cose. Dio non fa le cose secondo i presupposti, occorre essere uomini liberi, pronti a partire, pronti a lasciare, non sedentari, non gente che cerca le tane, le sicurezze. Alla fine del capitolo 10, che è lo stesso da cui abbiamo tratto questo Vangelo, c'è un esempio plastico, un cieco che siede lungo la strada a mendicare, sapete come si chiama? Bartimeo, il quale arriverà a vederci bene. Da cieco diventa vedente, discerne, sceglie, vede. Che cosa deve fare? Lasciare un mantello. Lui cieco, sente parlare di Gesù, lascia il mantello. Allora ti faccio questa domanda. Cos'è che il Signore ti sta chiedendo di lasciare per poter essere limpido nel tuo discernimento? A che cosa è troppo attaccato il tuo cuore? Persone, affetti, cose, prestigio, situazioni, riconoscimenti, sicurezze, abitudini. Ancora, il discernimento, ci dice il brano, si fa solo se si segue Cristo, cioè con il cuore di discepolo. Chi è il discepolo? Uno che è disposto a imparare. Se vuoi essere bravo a scegliere, devi essere disposto ad imparare, non uno che si sente arrivato. Chi si sente maestro non cammina nel discernimento. Ancora, per stare nella vita occorre imparare a rischiare. Bellissimo verbo. Come sei messo? Come sei messo col rischio? Noi cerchiamo continuamente sicurezze, assicurazioni sulla vita, sistemi antifurto sempre più elaborati. Facciamo i conti per non perdere niente. Il Vangelo è per chi rischia. Il rischiare è la forma della vita. La vita per crescere deve rischiare. una persona impara dalle cose che può anche sbagliare. Se tu un ragazzo lo metti sotto una campana di vetro non imparerà niente, per eccesso di protezione. Rischio. Se tu difendi tuo figlio dalle prime prese in giro schiaffeggiando i suoi coetanei, pensando che possa sfociare in un bullismo, forse fai un danno al figlio. Perché? Perché non gli permetti di elaborare le risorse, di sviluppare gli anticorpi. Occorre un po' di rischio nella vita. Amare è rischiare. Perché amare è andare in perdita. Se tu non vuoi perdere niente, amerai molto poco nella vita. Starai sicuro, ma con poco tra le mani. Quindi una disponibilità a rischiare. E rischiare che cos'è? dare fiducia. Da che cosa viene la fiducia nella fede per fare le scelte rischiose? Come facciamo noi a prendere una diocesi, una parrocchia, un gruppo e a fare una scelta coraggiosa? Solo se abbiamo nel cuore quegli occhi, quelli di Gesù, che ci dice non aver paura. Io non ti lascio. Io sto con te. Io ti do la possibilità di sbagliare. Quanto cristianesimo diventa ansia da prestazione. Quanto peccato diventa in effetti in realtà senso di colpa. Perché tu pensi che devi essere perfetto. Dio non ti chiede di essere perfetto. Ti chiede di essere felice. Chi è felice? Chi ha fiducia? Chi si sente stimato? Chi può correre il rischio di sbagliare? Sapete quali sono i bambini che rischiano? Quelli che sono un po' più sicuri di sé. Affettivamente più caldi. Quelli tristi che stanno nell'angoletto un po' palli di bravo figlio mio. Beh, forse è un figlio che ha paura di vivere quello poi. Quando un figlio si sente particolarmente amato, beh, devi mettergli otto babysitter. Perché si lancia dai muretti. Occorre partire da quello sguardo. Che sguardo di Dio hai sulla tua vita? È uno sguardo giudice, severo, serioso. È quello di tuo padre bacchettone. Perché Dio è uno sguardo che rilancia, che manda avanti, che dà fiducia, che ti dice figlio rischia. Quante volte Papa Francesco? Meglio una chiesa incidentata che una chiesa chiusa in sacrestia. Rischia, perché Dio ti ama. E non ti ama se sei bravo, ti ama, appunto. E se sbagli impari. E se sbaglio ti aspetto a casa, non mi muovo. Il cristianesimo, a dire il vero, non è un'etica del dovere, ma è un'etica del piacere. Cambia però totalmente la sede di questo piacere, che non è più la carne, di cui dicevamo prima, ma lo spirito. E per arrivare al vero piacere dello spirito bisogna essere disposti a rischiare, ad andare oltre i beni immediati, a lasciare. Bisogna avere desideri grandi, i desideri di Dio, i desideri dello spirito. Se non abbiamo una relazione con Dio faremo progetti lunghi quanto le nostre gambe, corti. Il coraggio di errare, di andare, di sbagliare viene dalla fiducia, mossa dai grandi desideri. Lo Spirito Santo dovrebbe incendiarci di desideri un po' più grandi, che contemplino il rischio di perdere qualche cosa, ma chi se ne frega? Cosa porteremo in paradiso? I conti in regola, anche forse non lo so. Il segno che ho centrato alla volontà di Dio, lo dicevo prima, è la gioia. Chi ha grandi desideri combatte, anche quando le cose non vanno immediatamente bene. Ancora, gli ultimi due, il discernimento si fa solo se si ha una meta. Qual è la meta, l'obiettivo delle tue scelte? Stare bene, la comodità, la sicurezza, l'interesse personale, la salute, tutto buono, non basta. Le scelte più grandi non possono seguire solo questo criterio. Per il vero discernimento occorre avere in noi i desideri di Dio. Lo conoscete il mito di Sisifo? Interessante. Sisifo è un uomo che sfida gli dèi nei racconti dell'antica Grecia e Zeus, per punirlo, lo pone ai piedi di una grande montagna dove c'è una salita grandissima e lui deve rotolare un macigno fino alla vetta e quando arriva in vetta il macigno torna giù e deve ricominciare da capo tutto. Quanti oggi vivono un po' così? Soprattutto i giovani, senza grandi mete, dovendo ricominciare sempre tutto da capo. invece è importante iniziare a fare le scelte non solo di vita ma di vita eterna, cioè che abbiano il gusto e il peso dell'eternità. Scegliere significa preferire e le scelte della vita, quelle più grandi, si fanno sempre tra due beni, non tra un male e un bene, ma tra due beni. C'è il bene secondo me e il meglio per me, quello secondo Dio. Occorre avere una meta, la vita piena, la bellezza, la verità, la bontà, le cose di Dio che profumano di eterno. E allora concludo, mi sembra, che per raggiungere la meta che in questo brano è la vita eterna, la vita piena sin da ora, occorre dire tre sì, che sono il presupposto per fare le scelte giuste nella vita. Come faccio ad essere uno che fa un buon discernimento? Devo aver detto tre sì. Il primo, il sì alla vita. Hai detto il sì alla vita tu. Il sì alla vita vuol dire aver detto di sì alla propria storia, al tuo nome, al tuo corpo, alla tua famiglia, al contesto in cui vivi, ai tuoi limiti. Il sì alla vita, scelgo questa vita, non scappo più e la vivo fino in fondo, smetto di giocare e inizio a giocarmi. Il sì alla vita, tanti non lo hanno detto, tanti giovani non lo hanno detto, perché sono sempre proiettati su una vita che non c'è, divisi a metà, spaccati, tra quello che vorrebbero essere ciò che sono. Che bello pensare che Dio ti fa far discernimento a partire sempre dalla realtà, non dalla vita come dovrebbe essere. Puoi iniziare a camminare nel discernimento, ora non c'è una situazione ideale, ma bisogna dire sì alla realtà così com'è. Bene dicendo Dio che ce l'ha donata, perché la realtà così com'è è buona, anche se non la capiamo, anche se non è secondo la nostra sensibilità. Due, il sì alla vita cristiana. Il discernimento non lo faccio finché non dico sì al Vangelo, cioè a porre al Vangelo come criterio di vita, a diventare discepolo di Gesù. Qual è il criterio delle tue scelte? A chi ti ispiri? Da chi vai a chiedere consiglio? Quali sono i valori di riferimento? Dove sta il Vangelo? Che posto ha Gesù Cristo nella tua vita? È la statuetta da spolverare quando c'è un po' di raffreddore? O è la stella polare delle mie scelte, il faro del discernimento? Terzo, il sì all'amore, ovvero sia all'amore come senso e fine della vita. Perché viviamo? perché moriamo? Perché esistiamo? Qual è la vocazione dell'uomo? Essenzialmente la vocazione al cielo, siamo tutti chiamati al paradiso, ma il paradiso altro non è che l'incontro e la vita in colui che è amore, la vocazione dell'uomo è amare. Quindi ogni scelta dovrebbe avere questo come paradigma. Mi serve per amare di più? Stiamo amando di più? Non stiamo guadagnando di più? Più persone sedute sui banchi? Più soldi per l'economia? No! Il vero criterio evangelico è stiamo amando e stiamo facendo sentire amati? Se no le nostre riunioni diventano sale di intrattenimento, i nostri oratori diventano sfide alle sale giochi, per avere tutti gli intrattenimenti per tenere lì i ragazzi. Ma si sentono amati così questi ragazzi? E stanno facendo esperienza d'amore e imparano ad amare. Questo è il criterio evangelico per le scelte. Allora che bello pensare che la vocazione di ciascuno è amare, dare la vita, perdere la vita per amore. Il vero discernimento lo faccio quando scelgo di perdere la vita, di non trattenerla, di non difendermi, ma di farne un dono d'amore. Allora faccio le scelte. In questo capitolo 10, se lo leggerete, Gesù poi confermerà questi criteri. Marco 10, 28. Quando Pietro gli dice, maestro, noi abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito, che cosa guadagneremo dopo che il giovane ricco va via triste? E Gesù gli dice, Pietro, guarda che non c'è nessuno che abbia lasciato case, campi, eccetera, eccetera, per causa mia e del Vangelo, che non riceva già il presente cento volte tanto. La vita cristiana non è lasciare, è ricevere, ma per ricevere deve svuotare le mani. Di che cosa ti stai accontentando tu? Perché Dio vorrebbe darti tra le mani qualcosa di molto più bello. Pochi versetti dopo, Gesù annuncerà la passione, il figlio dell'uomo sta per andare a Gerusalemme, verrà consegnato ai capi, dovrà soffrire, morire e risorgere. Va a dare la vita. Marco 10, 43. Dopo che i figli di Zebedeo hanno detto dei samaritani che potevano chiedere un fulmine dal cielo che li distruggesse, i discepoli erano un po', fin dall'inizio un pochettino bacati, quindi c'è posto per tutti. Gesù gli dice, perché questi poi discutevano su chi è il più grande, gli dice, i capi delle nazioni le governano, ma non sia così tra voi, chi vuole essere il più grande tra di voi sia il servitore di tutti, come il figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita per molti. Allora il senso della vita è perderla per amore e soprattutto ai giovani dico, inizia a chiederti che forma hai di amare tu nel cuore? Qual è la forma che Dio ti fa scoprire perché tu possa donare la vita per amore ed essere felice? Tanti giovani oggi sono affamati di vita e gli viene insegnato soltanto a difenderla, occorre ridargli quell'amore che li aiuti a donarla. Allora ecco, mettiamoci un po' in viaggio col notabile ricco, uno che ha tutto ma che gli manca la cosa più importante. Criterio delle nostre scelte sia la disponibilità a perdere perché abbiamo trovato qualcosa di più prezioso, la perla nascosta, il tesoro nel campo. Qual è il tesoro della tua vita? Chieditelo, perché là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Le scelte importanti nella vita le facciamo sempre per difendere un tesoro. Qual è il vero tesoro della chiesa? Chiediamocelo come chiesa riunita. Che cosa dobbiamo custodire e tramandare? Che cosa? Cos'è importante che doniamo alle generazioni? Le mura? Importanti, non bastano. Allora ecco, io prego il Signore perché mi mantenga in cammino, mi mantenga sufficientemente povero da avere ancora fame, mi dia un cuore da discepolo, che non pensi di aver capito tutto ma che mi lasci stupire da Lui, che mi fidi anche quando mi invita a mollare qualche cosa, persino le cose che mi sembrano buone, sulla fiducia che Lui me ne darà di migliori. Ci doni il coraggio per rischiare, per aprirci alla novità dello Spirito che fa le cose nuove, non ripete a ripetizione infinita le cose sicure, ma ci chiama sui sentieri del rischio, della perdita, della scomodità, dell'itineranza, dell'uscita. Troppe pastorali sono pastorali di sacrestia, occorre uscire, occorre rischiare, sapendo che Lui cammina con noi. Il tesoro più grande che vorrei portassimo a casa stasera sono due occhi, gli occhi belli di Gesù sulla tua vita, che ti dice tu puoi rischiare di fidarti di me perché io ti voglio veramente tanto bene. Ti ho amato di un amore eterno.